E' cominciato al meglio il campionato per il Baseball Club Foggia. La squadra milita da quest'anno in Serie A e al suo esordio ha vinto, battendo fuori casa la squadra dell'Anzio. Le partite, nel campionato di baseball se ne disputano due per volta, sono state molto combattute. La prima ha avuto addirittura bisogno di un inning supplementare. In mostra soprattutto due dei giocatori venezuelani, cioè il lanciatore Alejandro Morese e il battitore William Lucena. Vera sorpresa poi il foggiano Romolo Pompilio, un seconda base di appena 18 anni. Hanno giocato tutti quanti in maniera eccezionale. La squadra non ha commesso un errore. In difesa hanno fatto benissimo tutto. Tutte le azioni che si sono fatte sono state veramente belle. Domenica prossima si gioca in casa. Scendono a Foggia i giocatori del Rimini. In vista dell'incontro, al campo di Via Gramsci, si effettuano gli ultimi ritocchi. Bisogna cospargere la terra rossa e spianarla, installare un tabellone segnapunti elettronico ed innalzare la recinzione di almeno una ventina di centimetri.